Allora, dobbiamo chiudere lo spazio, però con Massimiliano stavamo invitando l'ultimo ospite che poi dobbiamo lasciare, che è la parola sostenibilità, che chiude un po' Allora, inviterei qui a raggiungerci sul palco Stefano Martello, l'ultima parola giustamente a un comunicatore. Allora, Stefano è un collega giornalista, comunicatore, scrittore ed è l'autore di una serie di libri appunto sulla comunicazione ambientale, l'ultimo uscito adesso, nella scorsa primavera. A chiusura di questo non evento, perché sennò mi rimproverano, ma un incontro costruttivo e strumentale affinché poi le parole abbiano una ricaduta a terra. Ecco, diciamo così, sicuramente gli eventi e la comunicazione servono in questo senso a dare, diciamo, una giusta direzione. Ecco, per la rinascita dei territori sono importanti determinate condizioni. La sostenibilità è il fil rouge che lega un po' tutto. La comunicazione, che ruolo secondo te ha? Sapete che differenza c'è quando viene investito un comunicatore e quando viene investito un lombrico? Di fronte all'ombrico ci stanno i segni della frenata. La comunicazione è questo, non si sa. Quando sono entrato in questa bellissima location ho visto un cartello che diceva ne parlano tutti, ma la conosciamo veramente, si riferivano all'Europa. Però questa domanda vale anche per la comunicazione. Perché? Perché il vero problema, o almeno i problemi, non sono solo quelli che in qualche modo ha già raccontato con grande acutezza Giorgia Grandoni. Un pubblico che rispetto alla sostenibilità si è moltiplicato. Quindi oggi non sono solo gli scienziati a parlare di sostenibilità, è anche la mia mamma a parlare di sostenibilità, la mia mamma faceva tutto un altro lavoro. Un conflitto sui temi della sostenibilità che esiste e che noi facciamo finta di non vedere sui modi di tracciare la strada, e lo vediamo, l'abbiamo visto a Roma sul grande raccordo anulare, con dei giovani che evidentemente pensano che il nostro percorso non sia sbagliato, ma sia in qualche modo troppo attendista, per certi versi mi scuserete anche un po' paraculo, per tutelare un po' tutti, lo status quo, e quindi chiaramente in qualche modo manifestano. E poi per teorie con cui comunque dobbiamo fare i conti, anche quando si tratta di persone che ci dicono che la terra è piatta. Perché? Perché quelle persone purtroppo non possono essere lasciate al margine, ma fanno parte della narrativa, l'austacolano, in qualche modo la rendono più difficile. E poi c'è il problema, la comunicazione, intesa per lo più come percezione, persuasione, un messaggio accantivante, una buona strategia social, e tutte queste cose qui. Allora, in conclusione di questo incontro che ha visto tante voci, è emersa una complessità di competenze che devono dialogare con loro. La comunicazione serve a mettere in comunione queste voci, in modo che il pensiero di un ingegnere mi sia chiaro, sia chiaro anche a me che ingegnere non sono. E quindi per dialogare, qui ci stanno tante espressioni, no? C'è l'espressione della finanza. Allora, dite stakeholder a un comunicatore e ditelo a uno che si occupa di finanza. Sono due robe diverse. Per la finanza è un socio, è una figura molto ben definita. È un azionista. Per il comunicatore è, paradossalmente, il cittadino del borgo, che rappresenta una narrazione e che in qualche modo può influire nei bei programmi che sono stati qui raccontati. Quindi, la comunicazione serve a riempire quel tipo di spazio che ci serve per accreditare. Non basta saper fare, purtroppo. Bisogna anche far sapere quello che stiamo facendo. Perché altrimenti noi camperemo e continueremo a campare di percezioni. Le percezioni, chiaramente, debilitano anche il programma più bello, più efficace, più ben costruito, più ben pianificato. E allora ci dobbiamo rendere conto che la vera rivoluzione oggi rispetto alla comunicazione è la comunicazione lenta. Lo so, è uno simoro per chi, come me, come tanti di voi, sono cresciuti professionalmente in un mondo in cui la reazione giusta era quella più veloce, più reattiva, più alla Gordon Gekko, più arrabbiata, più secca, più decisa. Anche quando in quella comunicazione c'erano scritte semplicemente delle baccate. Nel mio studio conservo sempre un'e-mail a cui la risposta, un'e-mail che diedi a un interlocutore che mi stava molto a cuore. Io ero un giovanottello, ero affamato e risposi alle tre di notte, perché mi accorsi alle tre di notte che era arrivata questa e-mail e si adesso vedrà quanto sono fico, quanto sono fico e efficiente. La vado sempre a leggere, non c'è scritto assolutamente nulla e questo chiaramente ci porta a vedere una situazione in cui davanti all'obbrico magari cercano di frenare ma davanti al comunicatore no. Grazie. Ringrazio tutti per l'intervento, per tutti i relatori, ringrazio anche, mi scuso per il ritardo che abbiamo avuto, veramente interventi di valore. Pubblicheremo tutte le registrazioni, apriremo penso un forum, un blog sul magazine dove anche chi vi vedrà e vi ascolterà potrà farvi domande. Grazie a tutti.